Ecco un alberello, questa volta non mi faccio vedere. L'albero è il simbolo della forza. Questo è un alberello mignon dove ci sono dei pacchettini, dei regalini che tengo su un mobile in cucina. Quest'anno i miei auguri vorrebbero essere un po' particolari. Ogni pacchettino, ogni cosa che appesa a questo alberello, spero che sia un sentimento buono, un gesto gentile e soprattutto che ci sia gioia, serenità, partecipazione, inclusione, integrazione. Tutti i pacchetti negativi, messaggi squalificanti, di denigrazione venissero completamente cancellati da questo albero, ma non ci sono. In questo alberello vorrei augurare tutta la mia solidarietà, tutte quelle persone che quotidianamente incontro, che mi vogliono bene, che mi danno tanta forza. Questo albero è un segno di forza.